Ciao a tutti, ciao Alessandra, so che ci segui da casa e benvenuto a Sharebooks per chi è appena arrivato oggi ma anche bentornato a chi ha frequentato, abbazzicato per di qua ieri e l'altro ieri. Oggi presenteremo L'Ascaro, una storia anticoloniale, un'opera scritta da Ghebreyesus Ailu nel 1927 e tradotta dalla lingua tigrina all'italiano solo l'anno scorso, nel 2023, quindi a circa cent'anni dalla scrittura e realizzazione dell'opera finalmente possiamo accedere a questo testo importantissimo, pubblicato nel 1950 per mancanza di mezzi ma anche per via della pressione della censura coloniale fascista e critica marcatamente il sistema di dominio coloniale italiano nell'Africa orientale, quindi Eritrea, Etiopia e Somalia e poi in Libia nell'Africa nord settentrionale. Abbiamo qui con noi Magda Ghebremariam Tesfau, le ho chiesto di darmi una piccola presentazione di sé, è PhD in scienze sociali, ha ottenuto il suo dottorato presso l'università di Padova con una tesi dal titolo Perché non li porti a casa tua? Storie di accoglienza tra rifugiati e locali ed è docente a contratto presso l'UOV, Stanford Florence, NYU Florence e Unipedì. Benvenuta. E da casa, che vedete qui dietro le nostre spalle, c'è Alessandra Ferrini che ha curato la pubblicazione e la traduzione in italiano e insieme al professore Woldeluhl Celati di Rar, docente di storia e istituzioni dell'Africa presso l'università di Macerata, sempre la traduzione dal tigrino all'italiano. E Alessandra Ferrini è un'artista e ricercatrice con base a Londra. Sperimentando con l'ibridazione del film documentario, la sua ricerca è impegnata a mettere in discussione le eredità del colonialismo e del fascismo italiano. Ecco, abbiamo preparato una serie di domande per le nostre ospiti, però mi preme innanzitutto fare una breve introduzione rispetto al contesto storico sociale in cui è stata scritta quest'opera importantissima e anche brevemente chi era Ghebreyesus Ailu, che se volete una piccola curiosità, se scrivete il suo nome su Google non compare, non compare, non compaiono molte ricerche importanti. Ecco, l'ascaro, una storia anticoloniale dal titolo originale Adesanta, una storia che narra le vicende di un giovane arruolatosi come ascaro, come dicevamo prima è stato scritto nel 1927, quindi nell'Eritrea degli anni 20 del 900, in una terra soggetta al dominio coloniale da più di 40 anni e quindi aveva al suo interno nella società eritrea di quegli anni c'erano dei tratti che contraddistinguevano il sistema coloniale, in particolare un regime di segregazione diffusa tra la manodopera italiana, quindi coloniale, che si era spostata verso l'Africa orientale alle ricerche di impiego, di occupazione e poi sicuramente la popolazione locale che era stata costretta a ridimensionarsi a livello anche urbano negli spazi a favore chiaramente della popolazione coloniale italiana. L'istruzione era terribilmente limitata alla licenza elementare e chiaramente affinché non venisse attuata la possibilità della creazione di un'elite eritrea. Poi ovviamente uno dei due modi per proseguire i propri studi era tramite l'istruzione religiosa che implicava lo spostamento e l'abbandono della propria terra verso i vari centri religiosi importanti, tra cui Ghebreyesus Ailu fu proprio attraverso questo canale, quindi dell'istruzione religiosa, che riuscì a studiare e riuscì a capire, comprendere cosa stava accadendo, perché lui nel 1924 si sposta verso il Vaticano e quindi fa questo viaggio verso l'Italia, però l'alternativa alla mobilità sociale era l'esercito, il reclutamento all'interno delle truppe coloniali italiane, i cosiddetti Ascari, di cui appunto il titolo. Le truppe italiane erano una risorsa preziosissima per l'Italia, sia politicamente, perché per l'opinione pubblica era molto più facile accettare che una truppa coloniale di Ascari combattesse al posto di truppe fatte da italiani e anche economicamente, perché appunto il mantenimento di queste truppe era molto più leggero rispetto al pagamento delle truppe italiane e ci andò a creare questo paradosso all'interno della terra eritrea e poi anche comunque somala, etiope e libica, ovvero sia la popolazione maschile africana venne colse l'opportunità offerta dalla carriera militare ed ecco un sacco di truppe di Ascari andarono a formarsi e questo fenomeno andò a raggiungere i propri apici con l'invasione coloniale nella Libia del 1911 che andò a avviare la guerra coloniale dell'Italia in Libia che durò fino al 1943 e poi ovviamente anche l'invasione coloniale dell'Etiopia, l'invasione fascista, nel 1935. Entrambe questi eventi storici erano stati fatti passare sotto l'espressione campagna di pacificazione, ci ricorda un po' qualcosa che sta accadendo alle nostre porte, espressione inadeguata per descrivere quello che in realtà stava accadendo, ovvero sia un'occupazione, un'occupazione militare e anche esterminazione e genocidio dell'ordine dei senossi ad esempio in Libia. Ovviamente questo libro di Ghebreyeso Sailu, poliglotta intellettuale ma anche polemista insomma, rompe il silenzio che si è creato a partire da questa modifica del linguaggio e della forma della storia in cui sono nate e cresciute generazioni di italiani e italiane, brava gente, e permette di mostrare il vero reale volto del colonialismo italiano e del razzismo e della violenza che hanno subito Iascari da parte dell'esercito italiano. Ecco, inizierei con le domande, ho una domanda per Alessandra. Ecco, come abbiamo detto anche all'inizio, il libro è stato tradotto dopo quasi cento anni finalmente in lingua italiana e mi chiedevo, ci chiedevamo, all'interno di quale contesto hai avuto modo di conoscere il romanzo e come è avvenuto il percorso di traduzione e di pubblicazione? Sì, spero che mi sentiate, penso ci sia un po' di delay. Intanto buon cuore a tutti e a tutte e a chi è in presenza e all'organizzazione. Niente, diciamo che ho scritto appunto la postfazione del libro dove introduco il modo in cui si è creata questa traduzione che è un modo diciamo un po' in ortodosso nel senso che viene fuori da un progetto artistico e io prima sono venuta a contatto con la traduzione inglese appunto del 2012 fatta da Germaine Gash e l'importanza del libro si spiega da sola diciamo e nel 2022 avevo una mostra a Bolzano, un progetto che si occupava diciamo delle relazioni quelle che ho chiamato relazioni, connessioni interdisciplinate, sono state indisciplinate, faccio sempre fatica con l'italiano e che erano diciamo le relazioni tra i margini dell'impero e quindi la storia degli Ascari specificatamente quella riportata nel libro di Ghebreyesus Ailuk dove si spiega appunto la relazione tra Ascari e Eritrei e la popolazione libica, la resistenza anticoloniale libica erano particolarmente di interesse, era una mostra fatta nel territorio di Bolzano quindi un territorio che ha subito un'occupazione, un'italianizzazione forzata che ha ripreso in varie modalità il modello libico, di insediamento libico, quindi mi stavo occupando di queste diciamo relazioni e coincidenze diciamo comunque overlaps e niente quindi in questo momento per me è stato importante chiedere alla galleria con cui stavo lavorando anche perché non c'erano proprio anche le condizioni materiali per portare avanti una ricerca sul territorio come mi era stato chiesto effettivamente ben insomma solida quindi ho deciso di usare la maggior parte del budget di produzione della mostra per questo tutto per questioni diciamo di come si lavora nell'arte contemporanea che non sono mai condizioni propense alla ricerca per cui poi bisogna un attimino se si fa un tipo di lavoro come il mio che è appunto da edito alla ricerca bisogna trovare modalità di un po' sabotare diciamo queste modalità di lavoro che si basano su modelli di arte commerciale abbastanza antiquati e quindi in questo caso sono riuscita a usare il budget per commissionare la traduzione a Woldell'Ulchelati di Rahr che appunto è uno storico, non è un traduttore in teoria però insomma ha accettato questa sfida anche perché lui è un esperto di storia degli Askeri quindi a differenza per esempio di Germain e Gash che ha fatto la traduzione inglese aveva anche una conoscenza di alcune questioni storiche molto più approfondita per esempio quindi la sua traduzione differisce anche in questo senso da quella inglese e quindi il libro nasce così, nasce nella mostra dove è stato tradotto durante un periodo il periodo di apertura della mostra man mano è aggiunto alla mostra quindi si poteva tornare a leggere un nuovo capitolo e poi grazie alla collaborazione con Tamu che è una appunto casa editrice con base a Napoli che si sta dedicando proprio anche alla traduzione di un sacco di testi fondamentali su questioni importanti come appunto la storia coloniale siamo riusciti a pubblicarlo con la fantastica collaborazione con Maza Mengiste che ha scritto la prefazione quindi ecco questa diciamo è quella che io chiamo questa genealogia un po' insolita di come è nato il libro grazie mille Alessandra grazie hai nominato Maza Mengiste ecco la seconda domanda che è per entrambe quindi prendete pure il vostro tempo per rispondere ecco riguarda proprio quello che viene detto nella prefazione e nei primi capitoli spoiler alert nel primo capitolo Tequavo che è il nostro protagonista Giovanni Eritreo lascia la sua città la città graziosa ed elegante in cui ha vissuto per tutta la sua vita per appunto partire per Tripoli e i genitori non vogliono e cito dal libro incapaci di proferire parola fissavano con gli occhi pieni di sorpresa e sgomento quell'abbigliamento del figlio che non avevano mai visto prima Tequavo in quel momento indossava una divisa da Ascaro e proprio Maza Mengiste compara quel momento e cristallizza la capacità dell'Italia di trasformare il figlio in qualcosa che i genitori non riconoscono con l'uniforme addosso è per loro un estraneo, quasi uno straniero il cambiamento dell'abbigliamento concretizza la colonizzazione italiana sul corpo del giovane Eritreo agli occhi dei genitori e ci chiedevamo come si è dato il processo del colonizzato da parte del colonizzatore italiano lo zio Italo e perché il colonizzato diventa Ascaro? Sì, inizio, io poi passo a Magda mi sentite? Sì, sì Allora, no, allora io mi focalizzo più sul racconto poi magari lascio a Magda un attimo ampliare e nello specifico nel racconto dell'introduzione appunto fatta da Woldellulchilati di RAR ci spiega diciamo alcune di queste dinamiche tra cui arvolarsi per la gioventù Eritrea in questo caso entrare a far parte dell'esercito era una delle modalità più semplici per l'ascensione e la mobilità sociale non c'erano tante alternative e se non si era già in un quadramento di istruzione che spesso come appunto l'autore di questo libro Gribile di Jesus Ailu era incanalato generalmente dentro il lavoro religioso l'altra modalità per poter insomma per avere un salario più dignitoso era appunto arruolarsi come Ascari e infatti una importante differenza tra la traduzione inglese e quella italiana è che la traduzione inglese si chiama The Conscript quindi il coscritto, il titolo del libro tutto questo perché il titolo originale è un po' lungo, un po' macchinoso non rende bene l'inglese e l'italiano adesso però The Conscript non è proprio accurato perché Tequavo in realtà va come si arruola volontariamente e quindi non è costritto effettivamente e questo appunto perché era una modalità di ascensione sociale ma anche perché che poi crea altri scompenso perché appunto mancavano poi mancava poi forza lavoro per altri lavori e allo stesso momento diciamo che questo appunto ci scrive Woldelul che era anche una modalità di realizzare alcune idee di mascolinità locali Habesha diciamo che vedevano nella guerra una modalità di realizzazione di poter provare un valore attraverso lo scontro armato insomma l'essere parte di uno scontro, di un esercito quindi c'è questa diciamo doppia valenza poi possiamo andare più nella profondità dopo e vedere un attimo cosa ci spiega poi di queste questioni di Breghiesha Zailu e anche come lui si posiziona però adesso lascio qua grazie funziona sì ciao sì diciamo che la colonizzazione come processo funziona sempre attraverso il subvertimento di un ordine di cose di un modo di produzione economico l'Eritrea che non esisteva prima del colonialismo italiano era una parte dell'impero etiope che vedeva insomma la sua centralità spostata verso quella che è l'attuale altopiano etiope mentre diciamo l'Eritrea e le etnie che abitavano l'Eritrea perché comunque stiamo parlando di un impero in cui c'erano una serie di gruppi etnici diversi e che vedevano vedono tuttora il potere distribuito in maniera diseguale tra di loro vivevano in subalternità rispetto al governo centrale che era guidato da un'etnia che è l'etnia amara che è l'etnia che guiderà di fatto l'Etiopia fino alla fine della guerra di indipendenza che viene vinta dall'Eritrea da due eserciti gemellati che sono l'esercito di indipendenza etiope e quello eritreo che vedono insomma la partecipazione di un'etnia principale che è l'etnia di Gebreyesus che sono i tigrini e che insomma rimangono poi al potere in Eritrea ad oggi in Etiopia fino alla salita dell'ultimo presidente Abbi che insomma forse sapete che tra i tanti genocidi un po' silenziosi oggi c'è stato un conflitto in Tigrai che ha prodotto più o meno 600.000 morti e quando quando avviene la colonizzazione avviene questo questo cambio di paradigma di fatto si aprono delle possibilità delle possibilità di ascesa sociale all'interno di economie che prima funzionavano diversamente l'economia possiamo dire era un'economia di tipo di tipo agricolo la guerra diventa una possibilità connotata per genere di ascesa sociale per una serie di soggettività che erano altrimenti di nuovo soggettività soggettività subalterne e quindi avviene questo questo sgancio dalla società tradizionale di fatto e un arruolamento che per quanto riguarda la regione per esempio da cui proviene Ghebreyesus che è una regione dell'altopiano eritreo che sta intorno insomma alla città di Stegeneti è abbastanza una partecipazione di massa quando io ho letto ho letto Ascaro che anche io ho letto grazie grazie alla traduzione e grazie al lavoro di Alessandra però diciamo quello che quello che viene descritto risuona con tutta una serie di avvenimenti storici partecipazioni storiche di colonizzati che vengono di fatto utilizzati dal potere coloniale per operare un'ulteriore colonizzazione cosa che comunque produce una gerarchia razziale stratificata e complessa con non so fenomeni come quello dell'indipendentismo irlandese c'è una bellissima ballata irlandese insomma una canzone di Belle che dice che parla insomma del 1850 di quando c'è questa grande fame questa carestia della patata come viene chiamata da Marx e e quindi le persone impoverite non trovano altra soluzione se non arrolarsi nell'esercito delle red shirt nell'esercito coloniale britannico e c'è proprio questo passo che dice pensavo che la più grande maledizione di una persona fosse la povertà e invece combattere nella causa di un ladro è dieci volte dieci volte peggio e questo è un po' insomma il processo il processo che avviene e infatti non a caso gli Ascari come Woldellul che la TDRAR mostra benissimo nella sua ricerca diventano la prima la prima classe media in Eritrea di fatto la classe media che poi guiderà il tentativo di emancipazione dall'Etiopia e la classe all'interno della quale si sviluppa quello che poi diventa il nazionalismo eritreo perché ovviamente prima non esiste nemmeno un'identità esiste un'identità etnica legata al gruppo di appartenenza non esiste un nazionalismo che poi ti porta a produrre 40 anni di guerra di indipendenza una guerra postcoloniale che ancora oggi insomma produce morte imprigionamenti dittature appunto molti di questi ascari compongono questo quello che sarà poi il nazionalismo eritreo molti di questi ascari si ribellano al potere al potere coloniale diventano parte della resistenza etiope contro la colonizzazione italiana e quindi insomma mostrano proprio quella parabola di liberazione che c'è anche in questa ballata irlandese di insomma chi viene colonizzato utilizzato come strumento di colonizzazione ma poi in qualche modo riesce a resistere e a rovesciare insomma con gli stessi strumenti quell'oppressione si grazie mille ma infatti la tua risposta un po' si ricollega alla terza domanda che insomma per te per infatti Tequabo si accorge che è un'arma del colonizzatore si accorge fin dall'inizio prima ancora del suo arruolamento lui è in conflitto perché capisce che guarda con scetticismo la guerra però allo stesso tempo fin da bambino è stato influenzato a credere che quello fosse stato il suo destino come gloria come eroismo come uomo non a caso in un in un passaggio c'è una delle canzoni che cantavano quando erano bambini che faceva chi rifiuta di andare a Tripoli è una donna e quindi ancora di nuovo viene riconfermato il ruolo di di uomo però appunto una volta arrivato a Tripoli capisce cosa significa essere soldato coloniale e rivedendo comunque la scrittura di questo libro che appunto centenaria ormai rivedendola adesso a fronte delle attuali politiche migratorie italiane ed europee che indicano le persone in movimento come le nemiche della situazione e strumentalizzano i loro corpi così come il colonizzatore italiano strumentalizzava i corpi degli Ascari che portato politico racchiude questo testo letto attualmente il portato politico è molto forte ci sono vari livelli di questo discorso oggi noi diciamo colonialità postcoloniale decoloniale dieci anni fa non lo dicevamo quello che è successo da dieci anni a questa parte è che c'è stato un lavoro trasversale che va dall'attivismo antirazzista alla produzione culturale che ha cercato di mettere in mostra quelle che sono le storie subalterne quella che è una prospettiva decoloniale anticoloniale il fatto è che insomma noi lo sappiamo in Italia per molto tempo c'è stato un occultamento totale e della vicenda coloniale che non si riassume nell'epoca fascista ma insomma come mostra banalmente questo testo parla dello stesso farsi nazione dell'Italia cioè parla dell'Italia liberale parla della possibilità dell'Italia di essere una nazione tra le altre in Europa e quindi insomma va ad aggiungersi insomma in maniera in maniera prepotente a quel corpus che noi abbiamo per raccontare che l'Italia non è un paese innocente che era uno degli slogan durante il Black Lives Matter è molto importante non anticipo delle cose però è molto importante per andare a spiegare come degli stereotipi razziali stereotipi razziali non sono stereotipi delle figure della razza precise che hanno a che fare con la colonizzazione dei corpi siano state prodotte qua esattamente come negli Stati Uniti esattamente come nel Sud Africa a partire da storie diverse andando però poi a riprodurre figure della razza quasi identiche no? come quella del servitore dell'addomesticato dell'ascaro no? che poi va addirittura premiato e su questo Alessandra può aggiungere molto sul modo in cui gli Ascari sono entrati a far parte prepotentemente dell'iconografia poi dell'Italia fascista come obiettivo raggiunto di civilizzazione e addomesticamento del corpo dell'uomo nero che altrimenti è un corpo anche potenzialmente estremamente minaccioso e anche di questo ritroviamo testimonianze continue nel modo in cui durante il fascismo e non solo è stato raffigurato il corpo dell'uomo nero il corpo dell'uomo criminale oggi la nerezza è profondamente criminalizzata noi lo vediamo con le politiche le politiche migratorie insomma dal Mediterraneo alle questure cioè alle frontiere infinite che si moltiplicano nello spazio nello spazio urbano però io penso che la cosa che ci può aiutare di più per pensare il presente di questo testo sia il fatto che il presente non nasce da niente il presente sta in continuità con una serie di movimenti storici e il flusso delle persone che vengono dal sud globale è un flusso postcoloniale è un flusso che nasce direttamente da responsabilità storiche legate al colonialismo in questo caso al colonialismo italiano e invece l'Italia è uno di quei paesi che ha sempre fatto molto ha raccontato come alieni i corpi che arrivavano senza riconoscere quali sono i legami storici e le ragioni se dall'Eritrea le persone scappano le persone scappano perché stanno scappando da una dittatura da una dittatura che esiste per il fatto che l'Italia ha fatto un ha avuto un'impresa coloniale ha prodotto un'identità nazionale in contrapposizione con l'identità imperiale etiope ha mantenuto un'influenza economica sul paese e non ha in nessun modo contribuito a un processo di riparazione quindi 40 anni di un conflitto postcoloniale 30 anni di una dittatura postcoloniale produce fuga nelle persone le stesse persone che poi vengono sanzionate nel momento in cui fanno quello che hanno diritto di fare cioè salire su una nave e cercare di arrivare come riescono ad arrivare per fare domanda di asilo a cui tra l'altro le persone che vengono dall'Eritrea tendono ad avere un riconoscimento assoluto in tutta l'Europa e quindi quello che mi interessa portare all'attenzione è il modo in cui questa testimonianza può ricucire questa storia e rimettere in discussione l'operato di un paese come l'Italia banalmente altri paesi hanno delle forme di riparazioni minime che non sono sufficienti ma il riconoscimento della cittadinanza dei documenti a chi è storicamente legato come il Belgio col Congo l'Italia proprio come parte del suo occultamento totale non mette in campo nessuna di queste azioni salvo poi che la Meloni va a farsi le foto con i bambini etiopi non appena mette piede fuori dall'Italia e questo non è una cosa casuale cioè come dire Alessandra lo sta meglio di me che ha lavorato su questa dinamica di memoria selettiva amnesia e rimozione del periodo coloniale fatto sta che appena si spolvera sia il panorama urbano che le relazioni internazionali succede quello che abbiamo testimoniato grazie mille ritornando agli effetti sul presente più che altro in merito a chi è destinataria destinatario di quest'opera nell'epilogo del romanzo leggiamo questa frase che è molto significativa e oggi se l'italiano ci umilia o ci percuote stiamo zitti alcuni addirittura sembra che lo considerino un gesto d'amore la nostra coscienza è morta una caratteristica ricorrente nel testo è l'utilizzo della prima persona come se l'autore volesse avviare una conversazione diretta e una connessione emotiva con chi sta leggendo le sue parole Alessandra ti chiedo a chi si rivolge nel 1927 quando appunto utilizza la prima persona plurale noi e a chi si rivolge tuttora appunto dopo cent'anni dalla sua scrittura con chi parla certo grazie allora ci sono appunto varie vari layers nel testo anche nel modo in cui appunto Hailu va dalla prima alla terza persona appunto si si include nella narrazione emerge in alcuni momenti e poi si ritrae commenta e poi risparisce che è molto interessante proprio dal punto di vista letterario ed è stato appunto uno dei motivi anche perché era così importante secondo me tradurre questo romanzo perché non è solo una testimonianza a livello storico appunto uno dei primi romanzi anticoloniali mai iscritti il primo effettivo romanzo moderno in forma di romanzo nella lingua tigrina quindi ha delle peculiarità proprio anche letterarie importanti a livello internazionale globale e poi specifico eritreo etiope e della letteratura africana e Hailu fa varie riflessioni da per me per me una cosa molto importante in questo romanzo è che c'è un monito specifico che lui riporta del fatto che questa relazione degli Ascari questa complicità degli Ascari con il potere coloniale in Libia poi riporterà a delle ripercussioni perché appunto lui dice che poi i libici si ricorderanno di questo torto di questa violenza ed effettivamente questa è stata una delle questioni anche importanti per me nel volerlo tradurre adesso ci sono appunto varie testimonianze di come i migranti eritrei che attraversano la Libia siano spesso target di violenza in modo particolare proprio per diciamo per questa storia per il continuo di questa storia quindi questo è per me un punto fondamentale di capire se parliamo di un pubblico di una recezione italiana per esempio di capire quali sono cioè che tipo di ripercussioni ha portato questa violenza allo stesso momento per me questo libro inizia da una riflessione sul genocidio in Libia in realtà che è diciamo la giocografia di cui mi occupo più in particolare le relazioni tra Italia e Libia e la volontà di cercare delle testimonianze nella letteratura di quello che appunto è successo durante quello che si chiama il genocidio in Libia che diciamo il coronamento della pacificazione in Libia della campagna di pacificazione che la dimensionavi prima e che si svolge a fine anni 20 fino ai primi anni 30 fino ai primi metà anni 30 e che è una pagina appunto terribile della storia italiana libica ma che è stata completamente rimossa ci sono pochissimi documenti un po' perché c'è stato un ban come si dice una scusate faccio sempre fatica è stato imposto di non poter documentare in alcun modo il genocidio da Rodolfo Grazia nei tempi per cui ci sono pochissime pochissime fonti e poi per altri motivi sono state fatte sparire i pochi i pochi documenti che c'erano e quindi ho cercato di nella letteratura ci sono alcuni alcune alcuni scrittori scrittrici che sono riusciti diciamo a darci un ma anche se solo un piccolo accenno della barbarie che si stava perpetrando in quel periodo e questo libro è una parte ci offre uno spaccato di quello che stava succedendo in Libia nel 27 più o meno quindi la brutalità della repressione anticoloniale in Libia e quindi per me se parliamo dei pubblici ovviamente ai tempi Ailu parla direttamente ai suoi connazionali con questi moniti appunto anzi come dice Moldelun nell'introduzione fustiga i giovani ritrei per assoggettarsi per essere complici di queste dinamiche e quindi diciamo è un monito di quello che aspetta agli ascari quando si arruolano e allo stesso momento ovviamente diventa poi una testimonianza per le generazioni future e nel presente appunto ha varie ci parla specialmente da italiani che molto digiuni di queste storie di questa storia coloniale della portata della violenza di questa storia coloniale perché poi riduciamo spesso le questioni alla durata o l'espansione del colonialismo italiano lo usiamo per non interessarcene perché non è stato così grande così impattante pensiamo come quello dell'impero britannico e francese e con questa scusa è una delle tante narrative che usiamo per non occuparcene e quindi in realtà poi un libro del genere ci rende tutta la tutta la violenza ce la rende in prima persona anche se è un romanzo non è un è fictional però Gabriele Jesus Ai Lu si basa comunque su serie di racconti e di esperienze vissute da persone che appunto da testimonianze raccolte comunque e quindi è la cosa importante appunto del libro poi è che ci rende questa versione questa visione in da un punto di vista che non siamo abituati a consumare a leggere perché non ci sono effettivamente negli archivi testimonianze di questo genere e e al contempo ci dimostra anche una agency di un narratore che non è che appunto che sfida anche queste dinamiche coloniali come Gabriele Jesus Ai Lu Grazie mille Alessandra per la risposta e avrei un'ultima domanda da porre a te Mazda e come è già stato annunciato più volte precedentemente che il destino degli Ascari apparteneva ai giovani uomini della popolazione indigena e appunto coloro che riescono a sopravvivere agli scontri negli deserti libici e poi alla violenza di questo ufficiale italiano che spicca e li abbandona alla sete del deserto e loro si imbarcano per tornare appunto a casa e in attesa del loro ritorno ci sono una serie di donne principalmente madri sorelle figlie di coloro appunto che avevano che erano partiti è interessante osservare come durante tutto il racconto durante il testo spicchino alcune figure di persone socializzate donne all'interno della società eritrea come ad esempio la mamma di Tequabo Tega che lo implora a non partire ma anche sempre al ritorno alla stazione una donna che era appunto emigrata ad Asmara col fratello che però una volta che non vede il fratello si rende conto di essere spacciata e quello che ci chiediamo adesso a partire da questo tipo di rappresentazione è come il colonizzatore italiano ha realizzato la colonizzazione in base all'identità di genere i ruoli e le aspettative di genere nella società colonizzata in particolare appunto nell'Africa orientale e Libia sapendo che appunto come dicevi anche tu prima i ruoli e le aspettative erano molto diverse grazie allora quello dell'ascaro è una figura di razzializzazione di genere nel senso il razzismo non funziona naturalmente allo stesso modo su una base di genere perché il modo in cui viene organizzato il potere insomma fa i conti insomma con altre linee di oppressione che determinano una posizione specifica dei soggetti con questo non voglio dire le donne in Eritrea in Etiopia hanno avuto un ruolo centrale tanto nella resistenza che nella lotta poi di indipendenza come in tutte le società che sono state fortemente militarizzate le donne hanno acquisito una sorta di cioè quella che viene definita in maniera anche forse un po' troppo liberale emancipazione da un lato perché producevano dall'altro lato perché hanno attivamente partecipato alle lotte di liberazione però questa è già un'immagine di fatto di emancipazione e riscatto mentre se noi vogliamo pensare al corrispettivo di genere dell'ascaro naturalmente pensiamo al madamato pensiamo alla schiavizzazione sessuale delle donne che insomma come ci ricordiamo da quel terribile momento di confronto tra Indro Montanelli Elvira Banotti negli anni sessanta sulla Rai non era solamente un fatto carnale ma era esattamente un fatto di riproduzione cioè Montanelli ricorda come le donne li raggiungevano nelle campagne ogni x giorni ogni due settimane dove erano dovunque fossero li raggiungevano con viveri con biancheria pulita e con tutto quello che serviva per la riproduzione dell'esercito tanto le donne degli ascari quanto le donne comprate dai colonizzatori quindi sicuramente nella figura dell'ascaro si riassume questo processo di passaggio dall'uomo nero come minaccia come selvaggio a l'uomo nero civilizzato e addomesticato che è il riflesso del potere dell'uomo bianco che è in grado di portare avanti questo processo tanto che se noi leggiamo delle testimonianze razziali non solo di epoca fascista ma anche principalmente di epoca fascista vediamo che c'è anche tutta un'elaborazione sugli eritrei sugli etiopi sui libici che li vuole immaginare come degli uomini che per quanto sono delle persone che per quanto razzializzate sono comunque razzialmente superiori ad altre popolazioni dell'Africa e dell'Asia che hanno meno storia e di nuovo anche questo processo è un processo che serve all'Italia per dire sì forse ci siamo arrivati dopo all'unità nazionale e al momento coloniale ma ci prendiamo i migliori perché noi siamo i migliori no? e l'addomesticamento dell'ascaro segue questo processo di fatto di sì di eroificazione del padrone perché gli ascari comunque chiamavano i superiori padroni e appunto da una prospettiva di genere il corrispettivo di questo è la madama con insomma secondo me è importante dirsi questa cosa cioè l'ascaro è il corrispettivo in guerra dello zio Tom cioè è il corrispettivo dello schiavo cioè in un immaginario tanto atlantico dello schiavo che arriva ad aderire completamente al desiderio del padrone in questa dialettica e per cui è strumento strumento del padrone e questa stessa dialettica servo padrone si dà in una relazione di genere da un lato nella relazione tra donna nera e uomo colonizzatore di cui è schiava sessuale ma anche nella relazione poi domestica di serva della donna bianca di cui è domestica soggetta alle vestazioni del padrone quindi perché è importante dire questo perché nonostante per lungo tempo di nuovo l'Italia si sia raccontata che determinate narrazioni determinate figure della razza fossero strane al contesto italiano invece vediamo che per storie diverse la storia del madamato la storia della servitù coloniale ci arrivano le stesse immagini che poi sono le immagini della razza a livello globale che sono quelle dell'asservimento volevo ringraziare Magda e Alessandra e lasciamo dieci minuti al pubblico un po' di tempo per eventuali domande curiosità spunti se non c'è nessun coraggioso a rompere il ghiaccio possiamo anche lasciarci qui non so se c'è qualche altra cosa che vogliamo aggiungere anche Alessandra da casa e tema dal vivo no particolarmente una cosa che non c'entra molto ma che prima quando hai letto dall'epilogo ci tenevo a dire e che mi sono scordata di dire è che l'epilogo in realtà non è mai stato tradotto prima perché non è stato tradotto nella nella traduzione inglese quindi effettivamente è disponibile solo in italiano e il libro è stato tra l'altro nello scorso anche tradotto in arabo però dalla traduzione inglese quindi però almeno c'è ed è stato tradotto proprio in Libia dalla casa editrice Elfergiani quindi sta circolando adesso anche in Nord Africa e niente mi fermo qua grazie mille allora alle nostre ospiti vi ricordiamo se voi vi ricordiamo che potete trovare il libro Lascaro Tamo Edizioni lì sotto dove c'è il punto libreria Sharebooks e buon festival buon pomeriggio grazie